Quindi, cosa avete detto il titolo? Sì, oggi cercherò delle persone, uomini o donne, indifferente. Mi piacerebbe avere una rosa di persone che hanno la possibilità di fare questo diamond. Gioca con Lily e Lulu Jungle. Luca Pisello Lungo. Basta. E' questa. Allora, fammi rivedere la clip che forse non ho capito bene. Quindi. Però è da notare che non avevo flash, eh? Ah, certo. Certo. Allora, che con Blitzkunk si avvicina Diana, il grab non va, finisce la clip. Questo è la ranked, vedi Nunu, lo stunni. Molto bene. D'oggi lo slow di Nunu. Forse anche un po' troppo. Vai su Catarina. Flash out. Bellissimo flash out. Poi rientri. Ok. Hai Nunu. Vai con la palla. Vai. Balla incredibile. Doppio stun ulti. Wow. Jean. Ulti. Triple kill. Ciao. Come ti chiami? Francesco. E che lo sei? Gold 2. Però gioco da 6 anni, quindi vorrei uscire dal 2. Che volsine col 2! Qui c'è Atrox. Ah, qualche miss della Spear. L'importante sono quelle che connettono. Dovevo dire che questo dovrino un po' mi ha messo un po' anzi. Te lo ricordavi meglio. Eccola! È arrivata King! Ciao. Ciao Paolo. Ciao, come ti chiami? Mi chiami Tommaso. Hai un microfono un po' così così, Tommaso. Mi dispiace. O hai forse un ventilatore aperto e diciamo il microfono? È il mio computer, fa schifo. Ok, aspetta che devo aprire un secondo. Tommaso, io potrei parlare anche con i tuoi genitori se vuoi. Non lo so. Tommaso, mamma, è una molto aperta al dialogo. Fai l'avvocato, anche mio padre. Objection! Fammi vedere la tua meglio merda, Fabio. Questa Lux con una full combo. Perché non va. Sei chiama, quindi. No, no, no. Ah, ma sei Lux. La merda. Beh, ti faccio pausa perché mi devi dare un attimo di tempo. Hai detto la meglio merda, questo è una merda questo. Ma non volevo essere tra le King. Bella King, come ti chiami? Gianluca. Che ruolo giochi? Jungle. Giocao Lily e Lulu Jungle. Lily e Lily. No, Nuno e William, scusa. Ah, ok. Quindi un campione solo. No, due solo, due. Cioè, Nuno che è il bambino. No, Nuno è l'ippopotamo e William è il bambino. Questa è una grande giocata con Blitzcrank. Il giocatore che tu conosci bene. Il campione. Ok. Come ti chiami? Allora, mi chiamo una tassa. Però non ho clic, perché non le faccio. Ok, non hai clip? Mi vuoi far vedere un game? E come te lo faccio vedere, Paolo? Aspetta, forse ho la RAM di ieri. Vediamo se la riesco a prendere. Ma tu, tu ti sei fumato una canna. Ma secondo te, io mi guardo la tua RAM. Paolo, senti, non vedere niente allora. Giro un pera. Ma hai una partita normale? No, mi rifiuto di farti vedere le cose adesso. Ti ho chiesto. Hai una partita da farmi vedere? No, Paolo, non ce l'ho. Me ne posso andare a rivederci. Ma hai rotto il cazzo 43 minuti per venire qua? Mi volevo scusare, Paolo. Mi volevo scusare. E poi stavi dicendo che cercavi 25 anni in operazione. Mi stavi descrivendo e te lo dovevo dire. Punto. Adesso dove ne posso andare? Salve. Ciao, Jay, come ti chiami? Gigas. Gigas è il tuo vero nome? No. Alessio. Ares è il tuo vero nome? No, Alessio, Alessio. Alessio? Sì. Sì. Ok, che fai? Studi? Lavori? No, nulla facente. E su LOL come va? Mare, mi sento di pausa adesso. Pure la LOL? No, ma... Pausa perché avevo degli esami da fare, quindi sono passeggeri. Quindi, fai l'università? No. Ah, esami del sangue? Sì, esami medici. Ah, ho capito, ho capito. Detto ciò, fammi l'altro clip, Marco. Marco? Eeeh, scusami, no. Ares. Eeeh, Gigas mi detto che ti chiami? Sì, sì. Vai. Gigas è il nome vero? No. No, no. Ares è il nome vero? No, Ares è un... È un dio greco. È un dio greco, sì. Esatto. E allora vedi che l'hai fatta a scuola, co***e. Mi viene a chiamarti Irene, ma so che non ti chiami Irene. No. Bravo, te l'ho detto come mi chiamo. Elena. Non ti sento? Non ti sento? Elena. No. Erika. Bravo. Dai. Eh, no, è un po' un po' da... Ma non ho mica letto la chat, dai. Un po' detto. Sei proprio sciocca se lo pensi. Paolo? Ciao. Paolo, noi ci siamo già visti. Cioè, già incontrati. E che ti ho detto? Ah, perché è rifianzata. Può essere. Sì, sono ancora 2 virgule. Non ricordo. E sei ancora fidanzata? Puoi anche dire di no. Non sono fidanzata. Allora, sei perfetta per la reborn. Sei perfetta. Ciao, Guido, da dove chiami? Ciao, chiamo da Piemonte, Ostra. Che ruolo giochi? Gioco giungla. Che lo sei? Gold 4. Sempre viego. Sei mai in viego? Eh, mi piace molto. Però gioco anche altri campioni. Prima li giocavo fin troppi. Poi ho tentato di ridurre un pochettino. Però viego abbastanza forte in questa patch, anche perché sto iniziando a giocare un pochettino... come si dice, Trinity Force, che non è male. Hai la camera per caso? Eh, no, mi dispiace, non ce l'ho. Mi riesci a mandare la tua foto su Instagram? Ah, ok. Ah, sei proprio un bel ragazzo. Ah, grazie. Vai, sei preso. Allora, Mattia. Ho 15 anni. 15 anni? E di dove sei? Sono di Vicenza, in Veneto. Vai. Sei mai ready? Vendi un bel binding. Questo è un coltello molto speciale. E lo credo bene. Questo è il nuovo Miracle Blade 3. Il primo della serie perfetta. W. Stunny Jean. Non ci credo. 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 Meno male. Meno male. Meno male. Meno male. Meno male. Meno male. Sennò praticamente ce ne andavamo tutti a casa con sta merda. Ciao, come ti chiami? Nicolas. Nicolas, quanti anni hai? 13. Nella clip perché ce l'avevo avviata, scusa. Quindi tu ce l'hai una clip da farmi vedere? Della partita ce l'ho. Eh, va benissimo. Però sto cercando un momento in cui ho spaccato tutti. Siamo a posto. Sei molto gentile. Ah, qua. Mazza che sberle che meni con sto mondo. Ebbè, è forte il mondo. Guarda che sberle che tiro. Bello forte. Bello... Una colonna, hai visto? Una bomba. Mi piacciono proprio i ciccioni, King. Molto bene. Il farm quant'è? Che non leggo bene dai pixel. Il farm... Allora, qua ho fatto con mondo 3, 3, 11, 232 di farm. Ho finito. Non è molto, però... L'ultimo game che ho fatto è invece 5, 3, 9. Ho farmato 314 milioni. Ma sono cifre da capogiro. Questo è il ranked. Ma sono cifre da capogiro.